Un bel colpo d'occhio sulle tribune, clima tranquillo in campo. Il derby di eccellenza tra Biellese e Fulgor Valdengo è solo una questione geografica. I bianconeri si impongono meritatamente per 3-1, ma rimangono a meno 5 dallo Stresa. La salvezza della Fulgor passerà da altre partite. Il primo tempo di netta marca biellese, con Namad che spreca una buona occasione già al primo minuto. La giovane e talentuosa ala ha modo di rifarsi subito. Panatti inventa un'apertura magnifica. Scienza è un rebus irrisolto. Passaggi in mezzo per Namad che batte a colpo sicuro e sblocca il risultato. La Biellese conferma il predominio territoriale, ma il secondo gol glielo incarta la Fulgor. Retropassaggio sventurato dei blu e Panatti, al sedicesimo centro in campionato, si ritrova tu per tu con Grosjac, tutto troppo facile per il trequartista laniero. La sliding door della partita arriva dopo pochi secondi nella ripresa. La Fulgor parte a mille e Giannacone si divora un gol facilissimo da 0 metri, sparando incredibilmente alto. Un errore che il Valdengo paga qualche minuto dopo. Il solito Namad penetra come un coltello nella difesa valdenghese, segna ancora e chiude la partita con mezz'ora abbondante ancora sul cronometro. Il resto è Accademia. Mister Peritore mette tutti i suoi giovani nel finale. Bottone, uno dei tanti ex, viene atterrato in area da Davide Gila. Lo stesso numero 10 trasforma il rigore con la palla che passa sotto il fianco di Raynero e il gol della consolazione che serve solo ad addolcire il divario. Doppietta, grande partita, derby della bielese. Sì, è stata una partita che sentivamo un po', visti i risultati da cui arrivavamo. Dovevamo dimostrare comunque che solo aria brutta che sta passando, noi ci siamo, non avremo mai e l'abbiamo dimostrato, credo. I gol sono arrivati come frutto del lavoro di squadra. Sul primo gol ho avuto solo l'istinto di rimanere fuori area, aspettare il tocco dietro e poi ho avuto un po' la fortuna anche di... il portiere non ha visto la palla ed è entrata. Non era un tiro fortissimo, però ben piazzato, credo. Il secondo, un gol diciamo più voluto dentro. È stata proprio dimostrazione che volevo segnare e credo si sia visto, ecco. Grande stagione comunque, lì davanti c'è tanta concorrenza, però il tuo minutaggio è impressionante considerando l'età. Certo, certo. Naturalmente siamo tutti bravi e naturalmente io faccio quello che devo fare, mi alleno bene e poi sta al mister scegliere chi deve far giocare. È lunga sì, abbiamo detto che avevamo un percorso, avevamo Borgaro e Bielese ed erano due gare che devono prepararci al nostro campionato. Adesso affrontiamo di seguito Alicese, poi andiamo a Varallo, poi affrontiamo il Verbagna e quindi quelle sono le nostre gare. Oggi abbiamo cercato di stare in campo, la differenza era abbastanza lampante, quindi ci abbiamo provato, abbiamo fatto qualche errore tecnico di troppo, se addirittura viene a giocare contro la Bielese, i regali, vedo il secondo gol, parla nostra e gli passi la parla loro, diventa ancora più difficile. Però, ti dico, siamo sul pezzo, nel senso che vogliamo mantenere la categoria e quindi l'auspicio è che noi mantiamo la categoria e dato che siamo qua a Biella e che la Biella faccia quella superiore. Questo è l'auspicio per la città di Biella. Bel messaggio, sempre per la partita va detto che magari l'occasione di Gianna Cone, inizio secondo tempo, poteva... Poter riaprirlo un pochettino, pregostavamo, perché lì era più difficile sbagliarlo che fare gol. Non è successo. Speriamo che la prossima volta invece la palla finisca dentro per quando i punti... non dico che questi non contassero, ma questi erano molto difficili. Come detto, speriamo che il calcio biellese continui a crescere. Sono divertito e il mister a fine primo tempo ha ribadito questa sensazione. È stata quella che si può dire la vera biellese, secondo me, perché dal punto di vista tecnico i giocatori ci sono sempre stati e mancava forse magari un po' di fiducia e personalità. Con l'ingresso di Amos a Agnesina, secondo me questa personalità si è vista, al di là del ruolo che ha ricoperto, però comunque come figura per noi è molto importante e dal punto di vista tecnico ho visto una biellese brillante, soprattutto al primo tempo. Strada ancora lunga, quindi. Stresa che ha stravinto. Stresa che ha stravinto. Noi dobbiamo seguire il nostro percorso, partita dopo partita, però con questa qualità tecnica che abbiamo e queste prestazioni possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni.